Ma il resto va in linea con quello che io vado dicendo da anni, questa è una città che vuole accogliere tutti e quindi quante volte abbiamo fatto, vi pregherai di andare a vedere le mie dichiarazioni in questi sei anni, quante volte ho invitato Roberto Saviano a venire a Napoli, quante volte ho detto incontriamoci, quante volte ho fatto appelli a tutto questo, quindi per me non c'è nulla di male, sapete, mi conoscete. Io sono un uomo che mi piace confrontarmi con tutti, quindi se Woodcock fa un appello che hanno fatto anche altri, per quanto mi riguarda non c'è nessun problema. Aggiungerei che in questi giorni noi abbiamo continuato a lavorare nella nostra città e credo abbiamo anche dato in modo silenzioso come sappiamo fare, da uomo delle istituzioni del quale mi sento profondamente parte da vent'anni, abbiamo dato il nostro contributo anche al raggiungimento di un risultato giudiziario così importante, all'individuazione dei presunti responsabili. Noi facciamo fatti, poi se accanto ai fatti c'è anche qualche simbolo che può aiutare, noi siamo sempre pronti, ma siamo quelli dei fatti.